Non ha senso un dibattito politico quando la strada è segnata e il popolo lo dimostrerà con il referendum, andrà tutto a votare per l'autonomia. E questo l'appello a tutti i partiti del Veneto, dal governatore Zaia, che da giovedì ha aperto ufficialmente la strada verso l'autonomia regionale. Decidiamo che il tema del referendum non è un tema di casacca politica, di tessera di partito, ma invece è un bene che dobbiamo garantire a tutti i Veneti. C'è il Veneto di sinistra, di centro, di destra, della Lega, di qualsiasi realtà, dei 5 Stelle, che comunque scelgono l'autonomia per il Veneto. Una strada che vuole essere anche la risposta ai comuni, come Sappada, che hanno chiesto di uscire dal Veneto. Sappada è la punta dell'iceberg. La verità è che per risolvere il problema di Sappada bisogna fare delle politiche che siano rispettose di tutti i 579 comuni del Veneto. L'autonomia del Veneto. E comunque nel frattempo sarebbe bene istituire un fondo per i comuni di confine, come abbiamo fatto noi come governo con il Trentino Alto Adice, e farlo anche con il Friuli Venezia Giulia. Alla fin fine i Sappadini chiedono di poter avere impianti nuovi, di avere investimenti per il turismo. A me sembra legittimo che venga data una risposta. Questo governo invece di andare avanti indietro con la pratica, da un palazzo all'altro, istituisce un fondo per i comuni di confine anche con il Friuli Venezia Giulia. E a proposito del Friuli, questa è la risposta al governatore numero due del Partito Democratico, Deborah Seracchiani, che ha criticato la scelta del Veneto. Rimandiamo uno slogan. La loro libertà finisce dove inizia la nostra. Autonomia del Veneto e referendum saranno i temi di uno speciale focus con il governatore Luca Zai, intervistato dal direttore Luigi Baccialli, in onda domenica pomeriggio dalle 16.40 e lunedì sera dalle 21.05 su Rete Veneta.